Il sindaco di Alba le prese con lo sgombero del campo nomadi rimandato per decenni. Ancora polemiche sulla denominazione del tartufo bianco d'Alba. Allarme a conti regionali, ci sarà un nuovo piano di rientro per la sanità. Intanto a Brassi presenta il nuovo ospedale di Verdun e i cittadini. La Lega vuole allentare la legge regionale sul gioco d'azzardo, mentre ogni albese manda in fumo oltre 2.600 euro all'anno. Intervista al procuratore di Asti Perdu, che in due anni ha dimezzato i processi in attesa. Bomboniere non solo, nello speciale sposi. Monforte entra nel circuito turistico dei comuni turriti e a Diano si fa scuola all'aperto. A Carmagnola parte il carnevale nel segno di Repe Perone. Dopo la Brexit e i dazi americani è sempre più difficile esportare i vini. Questa e tante altre notizie su Gazzetta d'Alba. Ne dico le online dal martedì.